bella a tutti i ragazzi finito natale parte carnevale e guardate nel lontananza ci stanno già i carri che si muovono ora ci avvicinavo e ve li faccio bene è bello c'è un macello tutta gente raga non è ancora carnevale ma tra poco lo sarà la linea e leo dietro e poi ci sta mio fratello e poi c'è questo caro che va l'avevo pure visto una spiegazione vi dico che dopo arriverà alto come si chiama lei è mia lei è mia e lei invece come si chiama Roberta Roberta e questa è bellissima tutta mia che cosa è bellissima e quanti anni ha sette mesi piccolissima si sta divertendo secondo lei no quando sono così allora ragazzi stiamo andando a vedere stiamo andando alla tenistina un bar qua vicino perché ci sta una mia amica non so se ve la ricordate sofia che abbiamo visto anche in quel video era con noi anche in quel video dove stavamo bollette allora bolletta cattiva e comunque c'è una cosa la tristia guardate qualche altro car bellissimo si muove questo anche e vabbè ragazzi e dopo faremo una battaglia con aldo con le cose adesso sta finendo di fare i compiti più tardi ci raggiungerà capito allora vi skip il video ci vediamo quando quando arriviamo alla tristina che questo bar qua allora mentre ci avevamo ecco qua abbiamo trovato un altro carro dello scimmione questo molto bello che figo vediamo se ce ne sono altri boh raga non vedo un costo quello se è vestito da casa di carta aspettate raga che si gira ecco vedete oddio ci sta muove muove pure la testa ma cosa c'era allora ragazzi siamo arrivati qui c'è il gorilla ancora e ce l'abbiamo fatta guarda guarda siamo tram c'è la tram fa vede fa spero una fermata ma non ci leggo niente io sono giorgia dove c'è un carro guarda salvini conte di maio ecco che era quel carro la bestia nel cuore il carro del bocci scritta roba quello con la il video è addietro no no fammelo vedere oh mio dio tra poco deve arrivare Aldo come giocare a calcio ma c'è schiuma quando ho fatto la z di zorro vabbè dimmi che sei aggrappato no aspetta no me lo voglio aggrappare no si è tolto girati ragazzi vedrete voi no ah ma stanno a fare il giro certo quindi questo qua era il primo no c'era quindi quello la era il primo si penso di si no poi ce n'eravano inquietanti dell'asi non l'ho visto si c'è io appena ho visto oddio sembrava tipo quello di Five Nightsights papà io vado a registrare quello si tanto qua le macchine non bastano però stanno vedendo girano alle poste dove c'erano tutte stanno tornando appunto ho detto vado a vedere cizia c'è la cazzo di tutto il sistema contro te ma che schifo questa ah non lo sapevo ma io non me li seguo ma vieni andiamo a vedere quello ah ecco cos'era dicevo io ah ah vai vai veramente no aspettate ce la registriamo tutta qua buongiorno alcuni non ballano ho capito come funziona questi sono gli indiani e quello è il carro degli indiani oh mi sacrifico voglio morire voglio morire questo è vero più veloce questo è vestito da Harry Potter ah 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 oh mio dio ma è vicinissimo ciao pimo saluta questo già c'era l'anno scorso si è alzato si è alzato sta accendendo il fuoco oh mio dio mi soffiato l'infarto ho detto oh mio dio ma non è una bestemmia ma ma non mi succede niente se mi metto qua ti immagino parte a 3.000 in retromarcia sto in mezzo alla strada raga oh mio dio però io ho paura di sto cosa cioè quindi dovrebbe raffigurare una cascata un pochettino solida comunque ci sto perdendo i piedi in aperta devo venire a te che hai fatto fai? sei andando addosso a quello non so ma mi siamo andando tutto il nido il nido messo a paura perché io ho fatto questo ma si è fatta male o andiamo e quello non si muove quello più lento di questo alassare ci da ma quante volte lo fare in tutto infatti guarda questi sono già ritornati forza saltate poi si aspetta io l'ho vista che se ne stava andando però io l'ho vista prima quando sono uscito dalla macchina che se però se stanno quasi tutte gaetane ho chiesto parte la voce questo è il ritorno è quello che ci mette tre ha capito perché non si muove so ma quella foto la capriola rifai la capriola vai alzate le braccia ma si sento a macello non riesco a parlare addio stiamo davanti alle bufie via 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 la madonna via la madonna non riesco a parlare Trasporta le gufie! Trasporta le gufie! Proprio in quel momento dove avevamo a stortirci le orecchie! Ma tu sai che secondo me questa è la terrestre che faceva più oltre e potevamo anche diventare sordi prima! Ciao! C'è una foto! Ciao signore! Oh c'è una foto qua! Chi è? Einstein! Penso Einstein! Sofì! Ma non si muove quello! Ma non si muove quello! Andiamo a vederlo da vicino! Quello sta fermo là! Ci vado! Papà! Sì? No io volevo prendermi la borcetta! Sofì! Guarda che io posso andare! Ciao! Allora ragazzi Sofia è rimasta là perché la mamma dice che non può andare ma a mio mio padre mi ha dato il permesso e io vado! ci credo ancora le luci stanno